Mai lasciarci sommergere dalla malinconia. Ricordiamoci che il Signore è amore onnipotente, per cui Egli può donarci sollievo fisico e spirituale quando vuole, se glielo chiediamo. Anche se apparentemente a volte non ci sembra così, Dio non si dimentica mai delle sue creature. Su questo dobbiamo essere fermi nella fede e nutrire in noi la fiducia nella sua divina bontà. Spesso siamo messi alla prova finché noi possiamo anche comprendere le nostre fragilità e per confidare solo in Lui. Il Signore conosce perfettamente le cause della nostra malinconia. Noi dobbiamo convincerci che Lui è il vero rimedio, anche se dobbiamo ricorrere ai mezzi umani. La malinconia è spesso dovuta alle varie preoccupazioni, ma chi si fida del Signore vive l'attimo e non si lascia condizionare dal passato o dal futuro. Cercate prima il Regno di Dio e la Sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Grazie mille! 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 Grazie a tutti